Lavoro in un negozio di rischi. E che fai il consulente musicale? Facciamo conoscere ancora più musica e guadagniamo ancora più soldi. Rischi zero e diventiamo ricchi noi e voi. I smart galer bruto facciarci più! Quanti fratelli siete? Siamo tre. Mi dico i tre Mixed by Harry. Tecnicamente tutti e tre. Soprattutto se parliamo in termini sociali. Vaglio, Harry, chi cazzo è? È lui, no? Mixed by Harry! Siete la prima etichetta discografica in Italia. Questi ci vogliono fare la guerra. E noi ci prepariamo a vincerla, mo' la guerra. Io volevo solo fare il DJ. Guardi!